Allora, sto lavorando su un oggetto in argento del 1700 che rappresenta San Maurizio, è un reliquiario. Ho iniziato la pulitura per mezzo di gommini morbidi montati su un microtrafano come potete vedere e adesso sto praticamente facendo la rifinitura e poi darò un protettivo finale per evitare la soffurazione dell'aggetto.